Sono le 8.30 e Rosario Livatino, quasi 38 anni, con la sua Fordi Fiesta colore amaranto, viaggia verso Agrigento per raggiungere il tribunale dove lavora. È il 21 settembre del 1990 e lungo la statale 640, incontrata a Gasena, la sua auto viene affiancata da un'altra autovettura, una 1 bianca, poi la comparsa di una motocicletta. Partono i colpi di una mitraglietta, il giudice viene ferito alla spalla e bloccato, scende dall'auto per cercare una via di fuga, salta il garderele, si butta giù per un burrone, alle spalle è tallonato dai killer, alla fine lo raggiungono e lo freddano. Il giudice ragazzino cade per mano mafiosa. Tra i sicari c'è Domenico Pace, condannato poi all'ergastolo. Dal carcere scrive oggi una lettera di pentimento per raccontare chi era allora e chi è adesso Domenico Pace. Ascoltiamo il testo estrapolato dal TGR Sicilia. Mi chiamo Domenico Pace, sono nato a Palma di Montechiaro il 27 dicembre del 1966. Mi trovo attualmente recluso nel supercarcere di Sulmona con una condanna all'ergastola vita per l'omicidio del giudice Rosario Livatino. Avevo 23 anni quando sono stato arrestato e trascinavo giornate mediocre e banali. La mia vita da pastore era fatta di solitudine e pochi sentimenti, con la natura a farmi compagnia durante il giorno ma con pochi contatti umani e scarse possibilità di essere aiutato a crescere umanamente. Questo ero io, un ragazzo vuoto, senza vere motivazioni. Sono qui a scrivere questa lettera perché credo che sia giunto il momento di dirvi con sincerità chi ero e chi penso di essere oggi. Quando ero in vita ai genitori del giudice ho pensato tante volte di chiedere loro il perdono, ma non sono riuscito a farlo. Chi come me è destinato al carcere a vita, dunque alla morte in vita, cerca di pace e io in questi anni l'ho sempre cercata. Ogni giorno pensavo al passato e sentivo una confusione di sentimenti e pensieri ai quali non riuscivo a dare né un ordine né un significato. Mi sono odiato. È stato insopportabile, ma non ho evitato di confrontarmi con me stesso. Mi sono guardato dentro con la lente di ingrandimento per cercare tutti i chiaroscuri del mio animo. Ho provato dolore, tanto dolore, ma a un certo punto inaspettatamente ho provato un poco di serenità. È accaduto quando il bene e il male che prima dentro di me si mischiavano, pian piano si sono distinti e chiariti per quello che sono e la coscienza è diventata di molte sfumature di colori diversi. Nei primi tempi erano assai scuri e man mano si sono schiariti e precisati. Mi sono così liberato dal peso più grande delle mie colpe e mi sono sentito in pace. Ecco perché ora sono qui a chiedere il vostro perdono. Lo faccio inginocchiandomi davanti a voi, strisciando ai vostri piedi. Se lo farete vi guarderò con gli occhi pieni di gratitudine perché mi avrete liberato dal resto del peso. Faccio mie esortandovi le parole di Gesù. Perdona il fratello che ha sbagliato, 70 volte 7, cioè sempre. E quelle di Benedetto XVI, perdonare è un dono di Dio e non è ignorare ma trasformare. La fede mi aiuta a sperare che il giudice Rosario Livatino mi abbia perdonato. Che sia presto beato. Non so se posso osare di dire che offro la mia testimonianza nel processo di beatificazione. Credetemi, lo sento vicino, ogni istante è con me e mi aiuta a vivere con forza d'animo la pena infinita che sto scontando. Grazie. Grazie. Grazie.